Faccio un video molto breve sul motomercato, con il caffè alla mano, perché se avete intervistato Carlo Pernat, poi mi piace parlare di mercato, Pernat manager di Bastianini, Bastianini sta guardando ad altri Lidi, ma attenzione perché l'anno prossimo si vocifera che Pramac possa passare in Yamaha, e quindi se Pramac passa in Yamaha, Martin non rimane in Pramac. Di Martini si parla che possa vestire di rosso ufficiale Ducati, ma in molti danno anche Marquez come pilota ufficiale Ducati. Allora, per quelle che sono oggi le fonti, nessuno sa, nel senso che Ducati non ha ancora scelto, questa è la verità. Quindi sono tutte dietrologie e speculazioni quelle che si fanno. Il mio modo di vedere le moto è che Martin debba andare nell'ufficiale, se lo merita. E quindi il mio effetto domino è Aleish si ritira, Vignale e Senea compongono per il 2025 il futuro team di Aprilia ufficiale, anche perché, lo sappiamo, Fabio Quartararo ha rinnovato per altre due stagioni con Yamaha, cedendo il talento ai soldi, questo l'ho anche scritto, l'ho dichiarato, per me è evidente che sia così. I 12 milioni di euro è probabile, ma sul mondo della MotoGP si sa sempre molto poco rispetto a quello dei calciatori, ad esempio di quanto prendono oppure no. Qualcuno parlava di 12 milioni l'anno, invece sono 12 milioni per il biegno, quindi 6 all'anno, poiché l'offerta di Aprilia si è fermata intorno ai 3,2, 3,3, da quello che so. Per cui non serviva andare così oltre, perché Quartararo non aveva altre offerte. Quelli sicuri in questo momento dei rinnovi sono Bagnaia, Binder e Quartararo, che hanno rinnovato Bagnaia e Binder addirittura prima dell'inizio dei test, in grosso modo. E quindi Aprilia 2025 è così, Ducati ufficiale, Bagnaia e Martin, Marquez rinnovato in Gresini un altro anno, con degli aggiornamenti probabilmente, anche se, ricordo, la stessa moto non avranno più due team, cioè non esisterà più, secondo la visione Ducati, avere team ufficiale, team satellite, anche se è il primo dei satelliti, stessa moto ufficiale. Questo non accadrà più. Probabilmente Gresini diventerà prima guida Ducati, ma avrà degli aggiornamenti non aggiornati alla stessa moto delle due ufficiali. E questo è un ottimo modo per differenziare davvero la qualità e le performance del team e mantenere satellite davvero il secondo o il terzo team. Questo negli anni in realtà è il contrario, cioè avere moto uguali, ha permesso a Ducati di fare un level up, un salto in avanti veramente clamoroso, perché grazie al fatto di avere 6-8 moto in pista, i dati accumulati sono stati enormi. E per questo ha fatto anche un salto in avanti, anche grazie a questo ovviamente, alla raccolta di dati numerosissimi. E quindi io credo che il team Gresini rimanga così composto. Attenzione perché poi scadono anche una serie di altri contratti. Di Gian Antonio in VR46 rimarrà lì e andrà via. E poi ci sarà il Valzer in KTM, perché Miller probabilmente lascerà KTM Red Bull e probabilmente anche la MotoGP per andare in Superbike nel campionato australiano, piuttosto che quello americano, quello britannico. Perché poi ovviamente sarà a costa colui che guiderà un KTM ufficiale, accanto a Binder che ha il contratto già fermo. Perché no Mark Marquez? Perché in questo momento, visto che sta andando molto forte, non mi sembra sensato e opportuno far cambiare a Marquez ancora una moto. dopo Honda, Ducati, andare subito in KTM, anche se sappiamo che Red Bull prima o poi ce la farà mettere sotto un suo team Mark Marquez, che è il suo pilota di punta nel mondo delle due ruote come ambassador Red Bull. Però credo che andrà così. Da capire poi nel team di Brivio, perché si parla di una promozione di Joe Roberts in MotoGP e della possibilità che a guidare nel team, dove in questo momento c'era Ulfernandese e Olivera, ci possa andare, non anche, ma al posto di ci possa andare Alex Sains, che ovviamente Yamaha non si sta trovando bene. E da capire poi il tema Honda. Marini ha un contratto e quindi non si muove. Zarco in teoria ha un contratto e quindi probabilmente non si muove. Chi si potrebbe muovere è Mir, che ha fatto male, malissimo, è il pilota che è caduto di più in questi ultimi due anni, non ha mai fatto bene con Honda, non è mai andato d'accordo con Honda. L'unico che ha vinto con Honda è appunto Erins, l'anno scorso ad Austin, con la calduta di Magnaia. Per cui è evidente che ci sarà un waltzer impegnativo e io credo che il primo a dover dare la notizia sarà Alex Spargaro. Si dice tra il Mugello, prima o dopo Mugello, quindi tra poche settimane si saprà la verità. Se Alex continuerà, il waltzer sarà un po' meno dinamico, un po' più da puzzle, da mettere i pezzi nella casella giusta, mentre se Alex si ritira e magari rimane come tester, come collaudatore, come coach, come uomo squadra apriglia, ci sarà davvero un waltzer, delle poltrone, delle selle in MotoGP e vedremo chi salirà, perché ovviamente c'è Aldegaard che ha già un accordo e spinge, ma bisogna capire se ci sono altri piloti che possono essere desiderosi di andare in MotoGP e la MotoGP desiderosa di avere. E poi molti che probabilmente invece potranno andare in altri lidi come può essere la Superbike. Questo ovviamente lo capiremo soltanto dopo le prime notizie che arriveranno verosimilmente dopo il Mugello. Ducati è stata, da questo punto di vista, sempre molto, come dire, sì, un team che attende. Ricordiamoci nel 2022 quando dovete scegliere tra Martin e Bastianini chi nel 2023 sarebbe diventato compagno di Bagnai ha aspettato Misano praticamente, no? Cioè Bastianini stava facendo molto bene, ha fatto molto bene anche se era Martin quello che era destinato a. Quindi Ducati guardano tanto ha fatto anche risultati e quindi li guarderà anche quest'anno. Martin sta facendo comunque meglio di Marquez anche quest'anno e l'anno scorso ha fatto comunque secondo. Questo gli va dato assolutamente onore, gli va riconosciuto, gli va dato atto e credito di una crescita continua e quest'anno probabilmente si giocherà ancora una volta al titolo nonostante l'errore ovviamente del Gran Premo di Spagna rimane lì dalla classifica per cui dati alla mano Ducati probabilmente l'ho scelto ma serve tempo ragionamento e capire anche cosa faranno gli altri. Io vi ringrazio, vi saluto, commentate, iscrivetevi, mettete like. Ciao!